Musica Vengono regolarmente dalla nostra scuola Da anni a novembre organizziamo un festival E vi invitiamo il 14-15 di novembre al Teatro San Giuseppe in Via Andrea Doria Ci saranno i più grandi maestri danzatori egiziani qui a Torino Il Nail Group per la prima volta in Italia Quindi è un evento unico, straordinario Il virtuosismo, cosa dirvi ancora? Il virtuosismo di questa danza è quello che viene chiamato shimi Cioè quella specie simile, vibrazione, ma che non è proprio una vibrazione Che è il virtuosismo della danzatrice E lo strumento che ho principe di questa danza è la tabla Der Buca tabla, chiamiamola come vogliamo E questa canzone, questo brano si chiama più tabla E poi capirete perché Possiamo partire con la musica, grazie E poi capire con la musica, grazie 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 Grazie a tutti La musica, grazie La musica, grazie Grazie a tutti